E come ogni lunedì andiamo a fare la Crypto Week per andare a prendere alcuni punti fondamentali che possono spiegarci cosa è successo la settimana scorsa e cosa possiamo aspettarci in questa settimana che è incominciata proprio oggi. Cosa molto importante da tenere presente è il fatto che sarà un misto di analisi tecnica e analisi fondamentale e dati on chain che sono praticamente i tre pilastri per andare a capire cosa può essere successo e cosa potrà ancora succedere nelle prossime settimane sul mercato crypto ma prettamente logicamente su Bitcoin sempre perché Bitcoin come al solito vi dico che è il benchmark del mercato crypto. Ma prima di cominciare come al solito vi chiedo sempre di lasciare un like a me serve tantissimo per crescere su questa piattaforma di commentare qui sotto con qualsiasi domanda dubbio o curiosità di andare a scrivere il mio canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare. Partiamo come al solito da CoinMarketCap che ci segna una capitalizzazione di mercato di 1713 miliardi di dollari con un volume nelle ultime 24 ore di 72 miliardi e una dominance di Bitcoin al 42.7 e di Ethereum al 17.7. praticamente quasi invariata la dominance per entrambe le crypto mentre il gas weight di Ethereum è sceso in maniera drastica finalmente e per quanto riguarda invece la market cap siamo praticamente rimasti fermi con un volume comunque abbastanza basso. abbiamo una quasi parità sul mercato negli ultimi ore e negli ultimi giorni questo significa quindi che il mercato momentaneamente sta semplicemente lateralizzando e quindi a breve avremo una exploit o in positivo o in negativo dettato da cosa? Da delle informazioni che stiamo aspettando prima di tutto dalla comunità europea, dal Parlamento europeo e poi probabilmente anche a un livello di, come si dice, di geopolitica per quanto riguarda logicamente la tanto parlata guerra. andiamo a guardare prima di tutto Bitcoin sul settimanale, anzi sul mensile che ci mostra subito che la candela è ancora ad oggi, una inside bar rossa. Mentre andiamo a guardare sul settimanale e vediamo che sta andando in compressione il trend quindi potremmo aspettarci un exploit nelle prossime settimane. Abbiamo comunque da tenere presente che questa linea arancione è una trendline di lungo periodo che comunque sta facendo da supporto in maniera abbastanza considerevole per quanto riguarda il mercato. e dobbiamo anche tenere d'occhio che comunque il MACD si sta andando a scaricare. Questo potrebbe essere anche una specie di sentore per un possibile pump abbastanza prolungato, non obbligatoriamente troppo forte per quanto riguarda il mercato intero delle criptovalute, prettamente momentaneamente su Bitcoin. Andiamo a guardare inoltre il giornaliero e mostra ancora una volta una lateralizzazione con compressione. E questa linea arancione, questa trendline arancione continua ad essere il bottom di mercato che in questo periodo è all'incirca sui 36.000 dollari. Quindi un livello di prezzo che può essere ancora una volta abbastanza interessante come bottom e comunque un livello di prezzo considerevole per quanto riguarda il valore di Bitcoin che è nettamente superiore alle aspettative di qualsiasi detrattore di esso, secondo me. Andiamo a vedere poi il total hash rate per quanto riguarda la blockchain di Bitcoin. Vediamo che continua a salire, sta ritornando ancora una volta in pump, non sappiamo però ancora quanto, ma siamo a 169 milioni di tera hash. Quindi non cenna a cedere, anzi è totalmente in una trend, in trend totalmente positivo. Quindi la gente continua ad avvicinarsi a Bitcoin senza paura. Andiamo a vedere inoltre il fear and greed index che ci segna la paura, l'avidità per quanto riguarda il mercato delle cripto. Ad oggi abbiamo un 23 su 100, quindi siamo in un'estrema paura, ma sicuramente siamo in una fascia abbastanza considerata, abbastanza non preoccupante rispetto al mercato passato dove abbiamo avuto anche di meno addirittura 13. Quindi comunque siamo in un momento positivo per quanto riguarda il Bitcoin, almeno relativo al momento ad oggi che stiamo vivendo. Quindi non stiamo parlando della all time high, ma stiamo parlando di un periodo dove domina la scena la guerra, domina la scena l'inflazione e domina la scena, logicamente, le varie sanzioni che vengono giornalmente date alla Russia. Intanto guardiamo che nelle 5 cose da osservare questa settimana vi è una specie di anniversario del Covid, ossia la settimana nella quale anni fa, due anni fa ad oggi è scoppiato proprio il Covid e quindi in Italia anche il lockdown che è una delle cose da tenere sempre sott'occhio presenti. In effetti io il 13, se non erro, di due anni fa cambiai lavoro e incominciai a lavorare in un'altra azienda, dopodiché lasciai, beh adesso sono in quella di oggi insomma ecco. E c'è da vedere una cosa molto interessante, ossia il fatto che sia la Russia che la Cina e l'inflazione e la Fed sono tutte notizie negative, ma in realtà Bitcoin non ne sta risentendo poi così tanto, basandoci logicamente sul potere inflattivo che sta comunque abbassando il potere del dollaro e anche dell'euro. Purtroppo l'euro abbiamo un 5.7% di inflazione. Bitcoin ha già dimostrato di essere saldamente correlato alle azioni statunitensi e qualsiasi reazione della scelta della Fed sarà probabilmente emulata nel mercato delle cripto. Questo perché dovrebbero decidere quant'è la percentuale di incremento di interesse che dovrebbe essere applicato proprio sul dollaro statunitense. Domani il 14 inoltre la commissione Econ del Parlamento Europeo voterà sul MICA, il regolamento che definirà il corso dell'adozione delle criptovalute nell'Unione Europea. Bitcoin potrebbe subire un trattamento discriminatorio a causa del consenso POV, Proof of Work. Un advieto della Proof of Work equivalrebbe a vietare di individuare un numero, commenta Knut Swalol, autore di Bitcoin Surveying Through Mathematics. Pensate infatti che questo è realmente la Proof of Work, ossia andare a indovinare un numero che coincide con il codice che serve per andare a confermare il blocco. E quindi andando a, diciamo, limitare questa possibilità, praticamente la comunità europea andrebbe a, diciamo, creare una specie di blocco per quanto riguarda il mercato delle cripto e di evoluzione per quanto riguarda Bitcoin, ma a tutti gli effetti proprio una dittatura numerica, matematica. Quindi, insomma, non possiamo più pensare in termini matematici. Andiamo a guardare poi un'altra notizia sul prezzo spot del celebra i due anni del crollo del 2019. E in effetti, chi ha acquistato due anni fa al crollo di Bitcoin, insomma, ha fatto un ottimo affare ad oggi. In effetti dovrebbe essere sceso addirittura a 4.000 dollari. Adesso siamo a 36, quindi praticamente a 31.000 dollari, anzi no, 38. Quindi a più di 30.000 dollari, insomma, di profitto. Posto molto importante per quanto riguarda Plain Sea, il flow price di Bitcoin nella fase di accumulazione era entro lo 0,29 giorni degli ultimi tre mesi incroci. Quindi praticamente adesso andiamo a vedere il fa... anzi lo guardiamo subito. Vedete questa linea blu è il STH floor, invece quella verde è il dormancy floor, floor, flow floor, scusate, l'incrocio di parole. Comunque questo va a definire all'incirca ogni quanto, ipoteticamente, potrebbe esserci un crollo del prezzo in maniera significativa. Ad oggi abbiamo un incrocio che si è andato a verificare tra queste due medie, ma ancora il prezzo non ha toccato il bottom. Quindi potremmo anche definire, se questo modello statistico dovesse realmente funzionare, potremmo anche andare a definire che questo modello possa andare a delineare come bottom del mercato proprio il prezzo ad oggi che stiamo vedendo. Questo è quanto. Anche se praticamente cosa succede ogni volta che viene incrociato, si incrociano queste due medie, ossia il prezzo di bitcoin va quasi a rimbalzare sulla media verde. E se dovesse succedere potremmo trovare bitcoin a 26.800 dollari, un ottimo prezzo per andare ad acquistarlo. Inoltre, continuando a leggere quello che c'è scritto qui, c'è una fase abbastanza importante a livello di analisi fondamentale. Ossia il fatto che l'accumulazione di bitcoin in questo momento è ai massimi storici ed in effetti al contrario, di contraposizione ai minimi storici, il quantitativo di bitcoin presente all'interno dell'exchange. Questa linea arancione è il quantitativo presente di bitcoin dentro l'exchange, mentre questo è il prezzo. Alla discesa di questa linea significa che c'è una diminuzione importante del quantitativo di bitcoin disponibile all'acquisto dentro qualsiasi exchange. E ricordatevi che stiamo parlando comunque di cryptoquant che va ad analizzare ben 21 exchange tra i principali, quindi per quanto riguarda Coinbase, per quanto riguarda Binance, per quanto riguarda Bitfinex, Bitrex e tutti gli exchange più importanti che ad oggi vi sono. Dopodiché andiamo a vedere un'altra informazione abbastanza interessante, ossia proprio quella che vi avevo già detto, il sentiment di mercato, ossia l'indice Fear and Greed che come abbiamo già visto non è per niente male, soprattutto per il livello di prezzo. Ultima informazione molto molto importante, decollo in arrivo con i Volcan Bond, allora sapete benissimo che El Salvador è la prima nazione ad aver accettato bitcoin come moneta a corso legale. Cosa hanno di particolare nel Salvador? Perfettamente un qualcosa che non tutti hanno, noi in Italia sì, ma non lo sfruttiamo purtroppo, il potere dei vulcani, ossia hanno la possibilità di poter sfruttare il potere del magma vulcanico, della pressione creata dal calore del magma vulcanico, che può essere utilizzata come elettricità. Questo sta nient'altro che andando a dare una possibilità, almeno si stanno attrezzando per farlo, a El Salvador per emettere il Volcan Bond, ossia dei bond collegati a un potere elettrico che verrà applicato per utilizzare dei miner per andare a calcolare proprio i blocchi di bitcoin. Quindi in questa maniera cosa significa? Andando ad acquistare un bond si ha la possibilità di poter guadagnare una percentuale di interesse grazie al fatto che vi sarà una macchina che andrà a minare bitcoin e quindi in quel caso a coniare e a ricevere delle fees dalle transazioni confermate. Tutto ciò va a dare quindi un nuovo modo per riuscire a creare dei bond che fino ad oggi erano stati creati solo e soltanto con la garanzia degli stati, insomma degli stati in generale, quindi come America e quant'altro. In questo caso invece andare a creare un bond in questa maniera significherebbe andare a mettere come sottostante bitcoin e dare il via a una nuova creazione di obbligazioni finanziarie basate proprio su un asset che fino ad oggi è sempre stato abbastanza schivato e schifato. E di questo sono veramente molto contento. Quindi come al solito ci sono tantissime informazioni da tenere presente, positive, negative, sempre però tante informazioni da tenere presente, soprattutto l'influenza che hanno queste informazioni sul quadro generale del mercato cripto. Non bisogna prenderle singolarmente, ma bisogna prenderle tutte insieme e poi andarle ad incastrare, sviscerare e cercare di comprendere se in realtà apportano un beneficio o un deficit proprio a questo mercato. Ad oggi la maggior parte sta portando soltanto beneficio anche addirittura la guerra pur essendo una cosa brutta, proprio perché sta dando la possibilità in Russia di continuare a fare delle transazioni economico-finanziarie con tutto che le banche hanno bloccato i fondi e congelato i fondi di tutte le persone. E nel resto del mondo di dare un'opportunità al mercato generale finanziario di non essere più bloccato sotto la cupola, diciamo, del dollaro che ormai fa da padrone in tutto il mondo. Io come al solito vi ringrazio di aver visto il video, vi ricordo di mettere mi piace, commentare qui sotto, iscrivervi al canale, attivare la campagna per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che vado a caricare, andare a visitare il mio account Instagram e TikTok DavideVasco85 e se volete contattarmi su Telegram Davide, lineetta bassa, Vasco. Vi ringrazio di aver visto il video e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!